Il ruggito del distretto della pelle. Nella stagione della crisi economica, del caro energia, delle risorse ambientali da valorizzare e da gestire, a cominciare dall'acqua, c'è un pezzo di economia vicentina che dopo anni difficili c'è ancora ma non si accontenta del presente. La Concia lancia una sfida al futuro. Il distretto della pelle Veneto è uno dei distretti più importanti al mondo. Abbiamo 3 miliardi di euro di fatturato, produciamo il 13,5% della pelle mondiale, il 62% della pelle italiana e occupiamo quasi 12 mila dipendenti. Il distretto della pelle tra Arzignano e Chiampo è un vero e proprio centro di gravità economico e produttivo che oggi attira il primo euro congresso organizzato in Italia per il progresso della scienza e della tecnologia sostenibile nella lavorazione conciaria. L'appuntamento è dal 18 al 20 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. Con questo evento vogliamo comunicare che il settore della Concia a livello internazionale è vivo ed è un grande onore per noi ospitarlo a Vicenza che è vicino al più grande distretto produttivo italiano. Eppure oggi il più grande distretto produttivo italiano della Concia è chiamato a superare la crisi energetica che attanaglia non solo le famiglie ma tutta l'industria. Oggi abbiamo una nuova crisi alle porte che è la crisi energetica che sta mettendo in difficoltà, in grave difficoltà anche il nostro distretto, sia le nostre concerie ma anche il nostro sistema di depurazione perché sono aziende particolarmente energivore. Certamente sarà importante mettere un tetto al prezzo del gas e disancorare il prezzo di energia elettrica appunto dal prezzo del gas perché oggi le nostre aziende stanno veramente soffrendo perché hanno costi che non riescono più a ribaltare sul cliente finale, non riescono dunque a avere marginalità e non riescono dunque a restare sul mercato. Oggi per superare la crisi energetica e per gestire le risorse ambientali c'è solo una strada, l'innovazione. E questa è la chiave per affrontare le sfide del futuro. Per affrontare le sfide del futuro che sono di produrre sempre in maniera più sostenibile, ad impatto zero e utilizzando, recuperando uno scarto dall'industria alimentare. A volte c'è della confusione nei consumatori su questo, le pelli che fanno i nostri manufatti provengono dal settore alimentare, diversamente dalle pelli per pellizia. Quindi la conceria esiste fin tanto che esiste il consumo di carne. Il congresso, promosso dall'Unione Internazionale delle Società di Tecnologie e Chimica della Pelle, servirà a fare il punto sui progressi fatti e su quelli da fare, per la sostenibilità economica, per la sostenibilità ambientale. Siamo partiti da quando scaricavamo le acque nei fiumi. Oggi abbiamo il più grande depuratore d'Europa in Arzignano, che depura circa 29.000 metri cubi di acqua al giorno. E quindi credo che abbiamo fatto dei passi da gigante, ma non finisce qui.